Spiacevole episodio per il povero Lando Norris, pilota di Formula 1 della sua McLaren, infatti sarebbe stato rapinato alla uscita dallo stadio di Wembley in Inghilterra dopo aver visto proprio la finale tra Italia vs Contro l'Inghilterra dove l'Italia ha vinto il campionato europeo promuovendosi come per l'appunto campione d'Europa. Tuttavia nel corso dei disordini dopo la partita Lando sarebbe stato bloccato all'esterno dello stadio, stava salendo sulla sua McLaren in GIT per rincasare però un gruppo di persone lo aveva fermato e lo aveva addirittura minacciato. Sarebbe stato costretto a dare un orologio dal valore di circa 46.000 euro non si tratta di un orologio spartano ma un orologio di russo uno di quelli che diciamo così hanno un valore davvero elevato. Il video termina qua iscrivetevi al canale dove te ne hanno commentato, fatemi sapere cosa ne pensate un saluto regalo, al prossimo e grazie